Marco! Ascoltate, facciamo una cosa per volta, i tatani voglio sapere, Alice, ascolta, hanno chiamato per le griglie, ascoltate, ma voi vi state rendendo conto che non sapete nulla? E chi sono? Voglio i nomi, mettete i miei ragazzi davanti ai loro tatami e diteglielo a Stefano! Carlo, mi fai l'uno, un altro tablet mi fai il due per piacere! Io dietro a qualcuno riesco a stare, a tutti loro!